Una seconda visita in Abruzzo dopo quella dello scorso 30 novembre all'Aquila dedicata alle aree interne. La segretaria del PD Elislein sceglie la Marsica per toccare con mano un territorio dalle grandi potenzialità ma penalizzato a sudire dalla politica del centrodestra. L'arrivo questa mattina di buon'ora ad Aielli dove ha visitato in Murales contro la mafia un'azienda agricola. Quindi in piazza Celano per incontrare simpatizzanti e cittadini a Sante Marie per visitare il museo dedicato ai briganti e a chiudere la mattinata l'incontro con cittadini e personale sanitario dei due presidi marsicani di Tagliacozzo e Avezzano. Qui in Abruzzo ci sono delle realtà resistenti che stiamo incontrando e che ci dimostrano veramente una storia diversa che è possibile sul proprio territorio fare un investimento di un nuovo modello di sviluppo che crei progresso, che crei opportunità di lavoro, che crei buona impresa. E noi in questo chiediamo molto ed è il motivo per cui sono i tasselli fondamentali del programma attorno a cui la coalizione che si è riunita per sostenere Luciano D'Amico sta puntando. Una coalizione davvero che dimostra che si può attorno a proposte molto concrete costruire un'idea di futuro comune e condivisa che ha unito tutte le forze alternative alle destre attorno a una candidatura forte e credibile come la sua. Siamo qui perché vogliamo ascoltare i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica che sta soffrendo moltissimo. Sta soffrendo per una mala gestione della giunta regionale di Marsiglio, sta soffrendo perché da 15 mesi c'è un governo che non crede nella sanità pubblica, che ha tagliato risorse alla sanità pubblica e allungato in questo modo le liste d'attesa. Non può essere la risposta alle liste d'attesa che si allungano fino a tre anni per una visita specialistica quella di dire che deve lavorare di più il personale esistente perché molto spesso il personale esistente è insufficiente nei reparti. Anche in questa struttura c'è una forte sofferenza dell'emergenza urgenza così come in tanti altri ospedali soprattutto qui in Abruzzo. C'è un problema di sbloccare le assunzioni di nuovo personale che possa ritornare a far vivere questi reparti. C'è un problema anche di visione di una sanità territoriale che non ha questa destra perché non ci crede. Invece la pandemia dovrebbe averci insegnato qualcosa. E nell'incontro con la stampa all'ospedale di Avezzano, la Schlein affiancata dal candidato presidente del centro-sinistra e regionali del prossimo 10 marzo, Luciano D'Amico, ha parlato anche della riserva del Borsacchio. Bisogna tutelare quella riserva, quel patrimonio ambientale naturale e preservarlo proprio anche dalla speculazione edilizia e da quello che si può prefigurare insomma come sfruttamento di quel territorio o come sfruttamento per la caccia o altre finalità. Noi crediamo che invece bisogna tornare indietro rispetto a quella scelta e per questo sosterremo quella petizione e i nostri in consiglio regionale si sono già mossi con una presentazione insomma di atti legislativi che vanno in direzione di tornare indietro su questa scelta nefasta. La giornata abruzzese della Schlein è proseguita con la visita in un centro antiviolenza e un incontro pubblico al Castello Orsini accompagnata anche in questo caso da Luciano D'Amico. Siamo qui proprio per dimostrare e rivendicare un'azione molto più incisiva che renda di nuovo alle abruzzese e agli abruzzesi il diritto alla salute. Oggi 7,6% degli abruzzesi rinuncia a curarsi, oggi abbiamo una mobilità passiva che sfiora ai 100 milioni di anni, abbiamo una diminuzione di prestazioni ospedaliere, abbiamo un piano ospedaliero che è tale solo sulla carta perché non tiene in nessuna considerazione le risorse disponibili, le risorse di personale, le risorse che sarebbero necessarie per farlo funzionare.